Un attimo, un attimo, sei sicuro? Te li faccio sentire. Alessia? Amma, Francesca, Sara, Michela. No, un attimo, svegliamo, è stata Michela? Chi è? Lui! Il nome? E la Sara, sei a quattro. Vai! Svegliamo, vedi, te ne so, vedi, te ne so, vedi, te ne so, vedi, te ne so. Un attimo, 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 un attimo. Vai, che sa? Ehm, Maria. No, 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 sono my cell. Ehm, Michela, Franja. E' stata Francesca, Michela. è eliminata vai siamo a tre vai girate ragazzi girate chi è sale? pederita sale pederita chi è? Francesca ora ragazzi il gioco si fa complicato ne rimangono due tu su due devi indovinare chi è stato quindi ovviamente indovinando chi è stato vincerai un premio del carisma ok? no 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 fermo 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 allora non ci sono i maschi allora e via tell devi essere fermo va bene? ma riuscii a prenderlo Vai, gira Toccatelo, toccatelo, toccatelo Ragazze, però piano, siete troppo... Vai Vai, vai, vai Stop Stop Che è stato? Questo era un maschio Perfetto, fate un applauso Allora Vieni qua, vieni Un po' divertente